Ed eccoci dal Salone Nautico Internazionale di Venezia, sono appena rientrato con questa bellissima ragazza Sofia. Eravamo fuori a provare delle barche particolari che loro da quest'anno rappresentano per tutta l'Italia. Sofia, la vedete giovanissima, ma la famiglia da tante generazioni è nel mondo della nautica con diverse soluzioni che erano alcune riguardano la parte motoristica, quindi loro, papà è bravo in quello che è tutta la parte sala macchina, lui è l'esperto, ha allestito marche molto importanti con sistemi anche innovativi, quindi parliamo di ibrido e di sistemi che oggi vanno per, beh questo è un salone che ha spinto molto sull'ecosostenibilità e quindi da lì io te l'ho vista in una foto, me l'ha fatto vedere papà, in una foto eri una bambina di penso poco più di qualche mese, eri già in una sala macchina, quindi te l'hanno fatto entrare nel DNA, tu hai le barche, prima di tutto ecco una presentazione di Sofia, poi parliamo di questa barca bellissima e di queste imbarcazioni con le quali sono appena rientrato, però due parole su quello che ecco, perché io mi sono sorpreso, ho visto una ragazza giovanissima e ho detto, ah così, fronti via, hai tutta questa conoscenza, perché non è soltanto mettersi al timone ma conosci proprio le barche. Sì, certamente, mio padre ha sempre avuto comunque il metodo di farmi, di insegnarmi sempre tutto e mi ha messo su una barca il prima possibile appunto. Al posto della culla. Al posto della culla io ero in barca e anzi, quando sentivo il rumore del motore della barca mi addormentavo sempre assolutamente, quindi anche lui ci ha tenuto tantissimo che facevo la mia patente nautica, ho fatto la mia intro 12 miglia e ora sto studiando comunque per fare l'oltre 12 miglia e ora sto lavorando un po' con papà, con la famiglia che comunque è da quattro generazioni che siamo nella nautica, abbiamo fatto le salamacchine per tantissimi cantieri e ora siamo qua. Papà negli anni 90 aveva fatto anche un altro dealership che si chiamava International Yacht Collection in America perché ha visto un buco nel mercato. Lui è stato il primo a portare, diciamo tra virgolette, a capire che il mercato americano andava seguito con quello che produciamo in Italia, quindi lui rappresentava diversi marchi importanti, San Lorenzo, in America. Certo, Maiora, Baia, comunque lui ha deciso e ha visto comunque che le rifiniture italiane, il Made in Italy, aveva un impatto molto speciale appunto nell'America e che agli americani piaceva la nostra cultura e la nostra bellezza, il nostro occhio per tutti i dettagli che abbiamo noi italiani. E tu siccome invece sei giovanissima sei andata a cercare delle barche che non vengono prodotte in Italia, sono prodotte in Polonia, però lei le ha individuate insieme ovviamente a papà, sicuramente ci sarà stata una consultazione di famiglia, ecco, ma Made Power Boys oggi rappresenta Saksdor, che sono queste barche che, io ho provato una con te, bellissima la 200 con questo modulo Joker che assomiglia un po' a quello della moto d'acqua, una seduta che richiama la moto d'acqua, è molto rivolta ovviamente a un pubblico molto giovane. E sono barche divertentissime ma al tempo stesso con degli accorgimenti, con delle rifiniture che sono di altissimo livello. Ecco, quindi in questo caso tu hai fatto il contrario, porti da fuori un prodotto valido in Italia. Esatto, noi abbiamo preso questi Saksdor appunto con il Jockey Seat, quello che abbiamo visto prima che è molto performante anche per qualcuno che è interessato a fare sport d'acqua, quindi wakeboarding o sci d'acqua e sono fatta apposta che comunque lo specchio di poppa è molto libero e ti dà visualizzazione verso la persona che sta facendo lo sport acquatico. Quindi ecco, però tornando, sono barche che in effetti ho visto che la comandavi e la sentivi tua. Questa è una cosa importante, no? Perché quando inizi a giocare, queste sono barche nate anche per giocare, deve essere una barca che ti risponde bene. Certo, e abbiamo diversi comunque modelli, questo era il Saksdor 200 Sport e quello che cambia fondamentalmente... Vicino a fianco c'è la... Il Saksdor è comunque 200 Sport, però abbiamo anche la versione Pro che sta per Professional, che abbiamo... E quindi cambia anche proprio l'allestimento per quanto riguarda proprio le prestazioni, non soltanto alcuni accorgimenti che sulla Pro magari danno qualche optional in più, però effettivamente gli cambia anche un po' l'impronta, diventa ancora più sportiva. Anche se comunque con quella con cui ti ho portato fuori prima, sono 115 cavalli e comunque si riesce ad andare a una velocità di 40 nodi, che diciamo che... Più che sufficienti. Sì, decisamente per una barchetta di quasi 6 metri, perché 5,95, diciamo che vai abbastanza veloce. Ho visto che tra l'altro hanno questa opera viva particolare che dà molta soddisfazione a chi la comanda la barca, perché a parte che è bella, perché colpisce, guardando la barca, si ha un senso di modernità, di una barca un po' più futuristica, proiettata nel futuro, ma ha anche queste soluzioni idrodinamiche che la tengono in acqua, che si governa bene la barca. Certamente. Allora, la carena è fatta apposta, che è fatta a V ed è fatta a planante e queste insinature la rendono molto aerodinamica e tagliano molto bene l'onda. E quindi ti senti proprio comodo e quando vai a quelle velocità non senti la barca che batte sull'onda, però più che in inglese diciamo it would glide through, però sì, che scivola sull'acqua, diciamo. E la particolarità di comunque questo cantiere è che i prezzi sono molto vantaggiosi per il cliente finale. Notavo appunto che sul prezzo ci si rimane un po' sorpresi dal fatto che una barca così bella, così rifinita, devo dire, lo vedono dalle immagini che abbiamo girato, sono veramente curate in maniera maniacale e anche danno quel senso di prestigio proprio a bordo con tutte le varie soluzioni, cucinerie di alto livello, però il prezzo rimane un prezzo invece molto competitivo. Molto aggressivo, infatti la casa madre è puntata sull'industrializzazione e quindi ciò vuol dire che loro riescono a tenere i costi bassi per il cliente finale e infatti la prima barca di 5,95 metri inizia da un prezzo di 23 mila più o meno. Un po' per tutti. Un po' per tutti, abbordabile. Invece il Saksworth 320 iniziamo da 93 mila. Poi ovviamente dipende dagli option che uno comunque mette, però diciamo che se andiamo per le misure su quella barca di altri cantieri ti chiedono anche molto di più. Ecco, guardate bene perché quando si parla di prezzi sulle imbarcazioni è difficile fare una valutazione, dovete guardare sicuramente quello che più o meno è il prezzo di mercato a cui si allinea una certa misura, ma poi su alcune misure c'è la differenza grossa, la si vede con l'allestimento. L'allestimento di una barca è come vestirsi, ci si può vestire con 10 euro, ma si può arrivare a 10 mila euro. Ecco, quello che cambia è proprio la scelta dei materiali con i quali vengono allestite. Dicevo prima, in effetti ha precisato, sono prodotte, l'azienda, l'industria, l'azienda perché ormai questa è proprio un'industria, è in Polonia, ma il progetto è finlandese. So che nei fiordi noi ci andiamo spesso per le competizioni e sono persone che sanno fare carene per competere anche. Certo, il produttore di Saksworth si chiama Sakari Mattilla ed è finlandese appunto e lui ha fatto barche da Axopar a Exo a comunque Acquador. Infatti nel nome S sta per il suo nome, la Ax sta per Axopar e Dor sta per Acquador e quindi lui ha deciso di fare ancora di nuovo un altro cantiere e un'altra marca per se stesso. E allora avete capito, ecco la bellissima Sofia, contattate Mad Power Boss perché effettivamente è un prodotto che secondo me darà soddisfazione a tanta gente e a tanti giovani. Ecco, è importante questo salone come si è visto in questi ultimi due anni, beh, tanti giovani, tanti hanno iniziato ad avvicinarsi a quell'idea di poter vivere una giornata in mare con la propria barca che può essere anche un 6 metri, però quella libertà di poter stare con i propri amici, magari ci si unisce con qualche barche in più, si crea il famoso gruppo di barche una attaccata all'altra e effettivamente sta, ecco, sta finalmente i giovani. Vedo che si avvicinano con più entusiasmo, prima la snobbavano un pochino magari la nautica, la vedevano più a mantine, invece vedo, c'è una testimonianza, prima mi ha fatto subito sventolare la patente nautica, ha detto c'ho la patente? Sì, sì, decisamente anche ho tantissimi amici che hanno anche loro la patente nautica e appunto poi ci si diverte anche col giochi sit a fare i giochi d'acqua perché alla fine quello poi è divertente e si passano le giornate anche così. Complimenti ancora e noi adesso per festeggiare ovviamente ci concediamo un brindisi con Sofia per cui ora possiamo stappare la bottiglia, ci danno il permesso di aprire una bottiglia e qua facciamo il bicchiere, eccolo qua, perché io mi auguro che tanti giovani si avvicinano a questo fantastico mondo grazie anche a persone come Sofia che sono davvero preparatissime e hanno tanto entusiasmo e questo è bello perché per te non è solo un lavoro ma vedo che lo vedi come la tua passione ed è questa la cosa più bella, quindi complimenti, il brindisi lo facciamo noi e un saluto a tutti voi da Venezia per ora è tutto, ciao!